Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi lunedì 9 aprile. Vediamo quali sono i temi fondamentali di questa giornata. Intanto l'incontro di ieri ad Arcore per parlare un po' di politica in questa fase ancora di trick e track politico e parlamentare in cui non abbiamo un governo. Ovviamente bisogna vedere come si muovono i diversi attori. Il centro-destra si muove come un solo uomo soltanto nelle dichiarazioni dei giornali e nelle dichiarazioni di intenti. Ad esempio una dichiarazione di intenti è quella di andare tutti insieme al Quirinale che due giorni fa fece clamore. Tant'è che Di Maio disse, continua a dire oggi in tanti retroscena sui giornali, se non molla Berlusconi, cosa che dice Salvini per restare con il Cavaliere si condanna all'irrilevanza. Ma oltre a questa vicenda ieri si sono visti tutti insieme ad Arcore e su questo vanno sempre d'accordo. E' incredibile come Salvini in questo sia molto docile, nel senso che accetti di andarsi a vedere dall'anziano leader, cioè Berlusconi, e non per esempio a casa sua. Dove e chi va da chi è un elemento significativo, importante nella politica. Mi stupisco come oggi nessuno lo noti. Ma quello che notano tutti è che nonostante si siano visti ad Arcore poi alla fine l'accordo non c'è. Perché l'idea di Berlusconi e dei suoi era quella di fare un governo Salvini anche di minoranza. Questi sono i retroscena dell'incontro di ieri, ma Salvini uscito dall'incontro ad Arcore, appunto, di unità con Meloni e Berlusconi, ha subito detto non ci penso proprio, non riesco a capire per quale motivo io debba fare un governo che va sempre a UG, Giorgio, vada a fare tutti i giorni a ricercare in Parlamento la maggioranza. D'altronde, capisco perfettamente l'idea di Salvini, troppo semplice, senti, vai avanti a schiantarti tu a cercare sempre i voti in Parlamento senza riuscire a fare nessuna riforma. Devo dire, sarebbe pazzo Salvini ad accettare una soluzione di questo tipo che tant'è lui fa subito capire che non ha interesse a farla valere. Di Maio dice ovviamente che Salvini è condannato all'irrilevanza se continua a stare con Berlusconi, d'altronde capisco anche Di Maio, perché Di Maio, certo, l'accordo con il PD, a parte il fatto che continua sempre a chiederlo in tutti i modi, sguagliati come sono tipici quelli del fatto, ed è anche vero però in una cosa quello che dice il fatto, e cioè che il milieu culturale tra Movimento 5 Stelle e PD, la base culturale, non ovviamente dialetti, è molto più simile che al centro-destra, ma il punto fondamentale è che il PD non ci vuole stare. Insomma, queste sono le novità di giornata, se non che i tempi mi sembra che si allunghino sempre di più. Oggi vi consiglio di guardare un pezzo straordinario di Luciano Capone, giornalista del Foglio, che non verrà mai più invitato, se questo è l'andazzo, ai convegni del Movimento 5 Stelle e anche a quelli di Davide Casaleccio. Lui, il titolo del pezzo è L'uomo più potente d'Italia, scimmiottando un po' un titolo che vi ha fatto anche, scusatemi, ma non vi offenderete se prendo un po' d'acqua così a canna, scusate la maleducazione, ma ero senza bicchiere, non so come fare. Allora, cosa succede? In questa paginata, tre pagine del Foglio di oggi, c'è Vita, Morte, Miracoli di Davide Casaleggio. È una storia straordinaria di questo ragazzo che si trova alla Casaleggio Associati. Un'altra cosa che segnala è che la Casaleggio Associati, tutti ci hanno detto, attraverso varie formule, controlla questa associazione privata, Rousseau, che è molto legata al Movimento 5 Stelle. Tanto legata al Movimento 5 Stelle che l'associazione Rousseau prenderà dagli eletti del 5 Stelle 1,2 milioni di euro all'anno come contributo alla piattaforma e 6 milioni su base della legislatura. E su questo siamo abbastanza tutti chiari, anche il PD ottiene dai suoi deputati di pagare il partito, non l'associazione privata Rousseau. Ma la cosa che mi divertiva e che io non riuscivo a capire è, ma questo Davide Casaleggio Associati, questa Casaleggio Associati è un mammut che si occupa di intergenza artificiale, che ci ha fatto vedere a Ivrea una grande cosa dove non vuole i giornalisti sgraditi. Che roba è? Un milione di fatturato. Ma neanche un milione di fatturato, cioè sono delle pippe, non sono neanche un webmaster sulla carta, sono inutili, non sono un'azienda, di che ci stiamo preoccupando? Certo che Rousseau con un milione e due all'anno di fatturato dai propri dipendenti amici parlamentari prende più di quanto prenda di fatturato complessivo la Davide Casaleggio Associati, la Casaleggio Associati che fattura meno di un milione e perde 40 mila euro all'anno. Mi sembra una cosa pazzesca, ma non solo questo, nel pezzo di Capone, leggetelo, del foglio, c'è proprio la parabola folle di questa idea della politica di Davide Casaleggio. Poi uno si va a stupire se non vogliono Iacoboni in il giornalista della stampa, già dimenticata la vicenda che un giornalista della stampa viene accacciato. Molto bello il pezzo di Rodovica Boglian oggi sul giornale in cui racconta che in realtà non è colpa di Casaleggio, ma l'odio che hanno nei nostri confronti giornalisti è enorme. Allora a me va tutto bene, perché si può essere criticato, eccetera, ma non mi va di essere vomitato, non mi va che arrivi Beppe Grillo con i soldi, noi tanto vi compriamo. Cioè mi fa schifo Grillo, chiaro? Mi fa lui personalmente, non il movimento, non chi li hanno votati. Grillo quando ci insulta io lo prenderei a calci nel culo, come avrebbe fatto lui con me, chiaro? Mi fa schifo. Uno che ci vuole mangiare e vomitare, se noi siamo giornalisti, commercialisti, se uno dice io i commercialisti li voglio mangiare e vomitare, io se fossi un commercialista direi vaffanculo, come lui ha detto a tutti gli italiani per avere successo. Ma questo non ha nulla a che fare con il garbato pezzo di Capone che vi leggete oggi sul foglio. Terzo mandato per Orban, i giornali rosicano, non mi ricordo quale, forse il fatto fa capire che ha perso meno voti di quanto ci si aspettasse, mi sembra che sia totalmente falso, anche forse che sia il fatto di averlo detto, perché non mi ricordo qual è il giornale che ha detto che Orban non è andato così bene. Oggi sono assetato, perché Orban non solo avrebbe preso un seggio in più rispetto all'ultima volta, ma con un'affluenza molto superiore rispetto al passato. Beh, l'ultima questione che però dovrebbe essere la prima di cui vi voglio parlare sono le cronache di oggi sulla Siria. Attacco a Duma con i gas, perché il mondo non reagisce? Assad è un animale secondo Trump, Trump diventa improvvisamente il salvatore del mondo, cioè Trump è quello dei dazzi, quello dei tweet, quello del ciuffo biondo, eccetera, se attacca la persona giusta diventa la persona più bella e più carina del mondo. Prima considerazione, finalmente abbiamo trovato il modo per sdoganare Trump. Seconda questione, non si mette minimamente in discussione che questo attacco sia stato fatto con i gas. Terza questione, che sia stato fatto dai siriani fedeli di Assad. Non si discute, è dato per certo. In qualche pezzo poi alla fine, penso a quello della stampa, sospetto che anche i ribelli abbiano quelle armi chimiche, cioè che abbiano fatto una messa in scena per creare, come avvenne l'ultima volta, un clima anti Assad. Tutte queste foto incredibili dei bambini che soffrono ci sono e sono drammatiche, chiunque li abbia ammazzati sono degli animali. Assad non è certamente una persona con cui vorrei uscire a cena ed è un dittatore. Ma i ribelli di Guta, se voi andate a vedervi sul mio sito il servizio di Michalessine, anzi andate su Mediaset a vedervi il servizio di Michalessine, sono ribelli, jihadisti, islamisti che tengono i civili come scudi umani. Di che stiamo parlando? Il più pulito lì è un delinquente, non è bianco e nero in Siria, come Michalessine ha detto. Ma io soprattutto leggo, leggo per esempio altre questioni, l'unico che scrive da un po' di controinformazione, cioè Michalessine oggi sul giornale, e cioè che cosa leggo? Che ad esempio le armi chimiche, secondo l'ONU, sono state completamente distrutte negli arsenali di Assad, che le aveva, quindi era un delinquente, perché le armi chimiche sono bandite dalle convenzioni di Ginevra, ma la Siria non le ha firmate. Quindi non sto difendendo Assad, sto semplicemente difendendo una parvenza di lavoro giornalistico. Oggi tutti i giornalisti BOOM! Così, tutti a distruggere e a prendere per verità acquisita quella che dicono 10 islamisti fanatici assediati da Assad. E' solo loro la verità. Voi dite stai esagerando? No amici miei, vi leggo un pezzo del libro degli stregoni della notizia di Marcello Foa, ma lo potete verificare anche su Google, se non sfidatevi. Nel maggio del 2017, e siamo nell'era di Trump, l'opinione pubblica occidentale viene scossa da nuove rivelazioni. Il Dipartimento di Stato, accreditando un report di Amnesty International, dice, accusa Assad di uccidere i prigionieri e di bruciarli nei forni crematori allestiti in una prigione vicina a Damasco. Ve la ricordate questa cosa? Assad i nemici li brucia nei formi crematori. Va bene? E lo dice il Dipartimento di Stato americano insieme ad Amnesty International. Seguono commenti inevitabilmente giustamente indignati, dice Marcello Foa. Sul Corriere della Sera, Donatella di Cesare scrive, avevamo detto mai più, ma il fumo dal cammino del forno crematorio in Siria riporta l'umanità nel baratro. Non c'è insulto più grande alla dignità umana, offendere persino la morte. Ora l'Europa, terra di Auschwitz, ha il dovere di mobilitarsi. E oggi tutti chiedono la mobilitazione contro i gas presunti a Duma o a Guta. Va bene? Vi ricordate quello che è successo nel maggio del 2017? E un pezzo di una collega bravissima del Corriere della Sera che non poteva altro che credere a quello che gli aveva detto Amnesty International e soprattutto il Dipartimento di Stato americano. I forni crematori, Auschwitz, dobbiamo mobilitarci, Assad come Hitler. Dopo una settimana, dopo una settimana, lo stesso Dipartimento di Stato si ricrede. Nella prigione governativa di Saidnaia in Siria probabilmente non c'è nessun forno crematorio. Una parte dell'edificio ristrutturato nel 2013 risulta semplicemente più caldo. Questo lo trovate nei documenti del Dipartimento di Stato. Prima era sicuro che c'era un forno crematorio e poi dicono che è semplicemente più caldo. Era una notizia cristiana, lo dice bene, senza azione analistica, del Dipartimento di Stato per farci odiare il nemico degli americani, cioè Assad, un po' come abbiamo dato ovviamente Usain per quella pruretta di Colin Powell, che era molto meglio di quello che sta succedendo oggi nel Dipartimento di Stato americano, e abbiamo fatto decine di commenti, decine di commenti dicendo che c'erano i forni crematori. Come oggi facciamo decine di commenti dicendo che Saddam sta usando i gas contro gli inermi e i civili. Uno, quei civili sono spesso trattenuti in quelle città dagli giadisti. Due, gli giadisti, secondo quello scrive anche la stampa, potrebbero avere quelle armi chimiche. Tre, vengono utilizzati, e questo è un dato, come scudi umani. Quattro, dalle città, dal quartiere di Guta, che è a due passi da Damasco, partono ogni giorno, migliaia, ogni settimana, migliaia di ordigni, proiettili e missiletti piccoli balistici per uccidere nei quartieri cristiani di Damasco, e tutti se ne fottono! Assad non è un santo, ma che questi siano i santi è una cosa vergognosa, di cui i giornali oggi tutti quanti ne danno conto. Leggetevi il caso dei forni crematori in Siria e poi reggerete diversamente tutte quante le idee, anche perché quando fra una settimana scopriremo che non è detto che ci siano stati gas, oggi qualche giornale più serio, qualche dubbio lo pone, beh allora a quel punto sarà troppo tardi perché la riga sui giornali sarà pari a 5 righe e Trump avrà preso l'occasione per usare una 50 novina, come ha fatto l'altra volta, di missili per bombardare postazioni filorusse e amiche di Assad. Detto questo, io non voglio prendere una posizione, dico soltanto ragionate, leggete, fatevi la vostra idea, ascoltate la zuppa e condividetevela se vi piace. Comunque la cosa certa è che in tutto questo, nel frattempo che tutto questo avviene, un governo in Italia non c'è e per i prossimi settimane secondo me non c'è. Michalessin, unico inviato credibile, anch'io lo chiedo, e Martin dice Bergoglio zitto sui cristiani, mi sembra troppo, fake news che continuano ad andare avanti, non dimentichiamo anche il famoso Novacek, il gas nervino russo di cui non c'è stata prova a Londra. Adesso io non è che voglio smontare tutto quanto, però insomma ragazzi stiamo attenti a leggere sempre le verità ufficiali senza fare un minimo di ragionamento. Ciao ciao ciao, condividete se vi piace. A più tardi con 105 Matrix.